himoto Nowakora Revisonto 12 anni fa entravo in una freddissima sala operatore di un ospedale romano ero spaventata a morte tremavo e piangevo parole di Laura durante una mammografia di controllo la dottoressa che mi dice hai due noduli che non mi piacciono devo farti fare le biopsie parole di Romina Il 2022 è stato l'anno della diagnosi. Ad un certo punto la vita ha deciso di mettermi alla prova. Ho capito che significa toccare il fondo, anzi, il terrore di non vedere la luce. Parole di Francesca. Queste sono tutte donne affette da carcinoma mammario, detto anche tumore alla mammella. E la maggior parte di loro è sottoposta alle terapie ormonali, come quella endocrina, che consiste nella somministrazione dei farmaci con lo scopo di bloccare l'attività degli estrogeni, che sono degli ormoni fondamentali per il nostro organismo, ma sono sempre loro stessi a nutrire il tumore. Nel tempo però in queste donne si manifesta il fenomeno della resistenza alla terapia endocrina. Quindi le pazienti non rispondono più. Come quando l'auto è acceso ma non parte a causa di un problema meccanico. Tra le cause di questo problema meccanico, quindi dell'insorgenza della resistenza alla terapia, troviamo le mutazioni che sono presenti a livello del recettore estrogenico alfa. Quello che subisce la cellula mutata possiamo paragonare a Peter Parker che si trasforma a Spider-Man, oppure a Bruce Banner che si trasforma in Hulk. Quindi le mutazioni conferiscono alla cellula delle caratteristiche diverse, riducendo la probabilità di sopravvivenza, in quanto queste mutazioni sono presenti prevalentemente nei tumori metastatici. Cioè in quei tumori dove la cellula si stacca dal tumore primario e si diffonde in altre parti del corpo, creando nuovi tumori. Così come lo faceva Lord Voldemort di Harry Potter, che aveva trasferito la sua essenza in altri oggetti chiamati Horcrux. Infatti la nostra sfida è quello di bloccare la metastasi di questi pazienti che hanno la resistenza alla terapia endocrina. Mi ricordo che in uno dei film Lord Voldemort disse non esiste bene e male, esiste solo il potere e quelli deboli per averlo. Ecco, la cellula mutata ragiona allo stesso modo, vuole solo il potere, vuole solo vincere. E nel fare questo, se gli costerà la nostra vita, è pronta a sacrificarci. Io, da dottoranda, assieme a tutti gli altri dottorandi e ricercatori, nel nostro piccolo cerchiamo di contribuire alla scienza, ma voi, nel vostro piccolo, controllatevi. Andate a fare quell'ecografia e mammografia. Potete sempre rimandare tutto, ma non rimandate mai quando si tratta della vostra salute. E ricordatevi che la diagnosi precoce salva la vita. Grazie. 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 Grazie.